vai allora ok ci siamo e io penso di stare per morire quando volete via dunque vai quando volete è già partito credo che morirò morirò questa sera quando vuoi un video eh no maledetta la foto mi devi fare quel video mettiti in posa fai che schiacci la sigaretta sotto al piede quando vuoi puoi andare e grida poco poco per farti allora qua c'è tipo la piscina così e abbiamo una volta abbiamo fatto il bagno di sera notte tardi vabbè qui ci sono i divanetti poi hanno messo le sedie ciao antonella ciao sasi i divanetti qui c'è la struttura del club a cui recitiamo noi quest'anno ci sono cagnolini le patatine e i cagnolini sono una minaccia per la cultura occidentale quando volete bravo 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 signora se suo marito mi ha comandato così io muoio vuoi eh quando vuoi vai ma questo io signora non potevo saperlo ah si brava ci ha fatto l'onore di essere qui con noi un applauso oceanico signora carissima io sto a casa di giuliano e sto morendo dalla felicità la mia ultima sera come era come era la cavalcata un po' tionchino o cotone un po' tionchino o cotone un po' tionchino o cotone un bel sottofondo musicale si provo la mezza un uomo tre muliere steva scritti in un giornale una legge speciale faccio un anno e sai perché perché l'uomo ne so poche mentre la donna in abbondanza me la voglio fa un avanza non ti toglie fone a te è la mamma di giuliano san giorgi giuliano ho pianto come una cretina vai poi che devo dire se non mi succederà il terzo giorno urla un altro pochino però e ho capito ma non ti sento io e niente poi di la c'è vabbè c'è tutta la cosa del hotel privato si la piscina è magnifica è bellissimo è praticamente bellissimo noi abbiamo fatto il bagno con i divanetti quelli tonde così molto chic molto chic ci sono un sacco di persone bellissime noi vi aspettiamo lei sicuramente io non lo so se mi arrestano prima sarà meglio di così sarà molto meglio di così serva sua diciamo un po' po' così carmè 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 tu sola non me basta se ce ne vanno tre carmè 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 chi tenga capa tosta 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 con me chiede senza pina qui c'è tutta la piscina con le luminarie carmè una volta abbiamo fatto il bagno che la sera ci siamo fatti il bagno il proprietario dell'albergo vi aspettiamo carmè 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 tu sola non me basta me ce ne vanno tre ma fai quando vuoi quando vuoi carmè carmè chi son che buona basta va contenta tutte e tre quando vuoi puoi andare carmè 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 chi tenga capa tosta 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 con me chiede con me chiede carmè 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 chi tenga capa tosta 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 con me chiede